Barbara D'Urso mostra un fisico mozzafiato a Cuba, il bikini è super sexy.Barbara D'Urso continua a far parlare di sé La conduttrice televisiva di Pomeriggio 5 non smette di creare scompiglio sui social, soprattutto dopo aver postato una foto che la ritrae in costume da bagno All'età di 61 anni, Carmelita sfoggia ancora un fisico mozzafiato con curve da far perdere la testa a chiunque Un dettaglio, però, non è sfuggito ai fan che non hanno perso occasione per insultarla e criticarla su Instagram Barbara D'Urso al mare a Cuba, indigna e web.Barbara D'Urso ha scelto Cuba per ricaricare le batterie in vista del ritorno sul piccolo schermo, previsto per il 7 gennaio 2019 Nello scatto realizzato qualche giorno fa, come scrive lei stessa si trova a Varadero Nella foto si nota il dettaglio della scollatura, sulla quale si posano gli occhi dei suoi fallover soprattutto maschi La conduttrice televisiva è partita insieme al suo amico Cristiano Malgioglio e secondo alcuni rumors pare che entrambi abbiano in mente un nuovo progetto lavorativo Per ora tutto è top secret ma sicuramente nei prossimi giorni arriveranno nuovi aggiornamenti Barbara D'Urso non smette di creare caos.Barbara D'Urso lo scorso luglio ha creato più o meno lo stesso caos dopo aver postato un video sul suo profilo Nel filmato, Barbara correva su una spiaggia italiana con un copricostume bianco Nel video, però, alcuni avevano notato un dettaglio clamoroso che aveva scatenato polemiche. La D'Urso stringeva tra le mani dei fiori, in particolare un giglio di mare appartenente ad una specie protetta Inoltre, pochi mesi fa, dietro le quinte di pomeriggio 5, non si è accorta di avere addosso un vestitino trasparente, tanto da mettere in mostra il suo perizoma bianco In un secondo, dopo aver postato la clip Barbara si è ritrovata sommersa di critiche tanto che molti utenti, in particolare donna, si sono indignate, accusandola di essere ridicola Grazie